Andre è sempre divertente incontrarti al salone perché poi hai degli aneddoti che racconti ogni anno. Se partiamo da questo 24 che cosa hai visto o non avresti voluto vedere che ti ha colpito? Soprattutto mi piace il fatto che si vede tanto legno in giro, materiale naturale e sostenibile, quella parola che ormai si dice in ogni frase e questo mi fa un grande piacere. Posso raccontare un piccolo aneddoto che ho trovato molto curioso. Settimana scorsa ero a Montreal e a Montreal ti aspetti legno, 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 legno e c'era un convegno internazionale del legno e mi hanno detto che in America e in Canada importano legno, la melare, dall'Austria che ho trovato completamente assurdo e non ho capito perché. Sono i maggiori produttori. No ma poi mi hanno spiegato perché ovviamente la quantità di legno che c'è nel continente nordamericano non è paragonabile e perché non hanno mercato per il lamellare in Nord America, usano soprattutto il sistema di telaio e dunque producono 2x4, 2x6, 2x8 ma i lamellari no e li fanno importare dall'Austria che sono molto più attrezzati, cioè in Europa in generale e non solo l'Austria per produrre questi prodotti. Dunque ho trovato questo molto curioso. Il processo design, la materia prima, la capacità di produzione e il mercato. Il mercato che lo chiamano, in ogni caso è un mercato che ovviamente è destinato a crescere molto e mi auguro che i produttori che sono in questo campo si danno da fare perché è veramente una bellissima, è un bellissimo vocabolario architettonico anche. Tu l'hai usato, se non ricordo male, in uno studentato, no? Con il cuore in acciaio. No, non è un studentato. Noi lo stiamo utilizzando adesso per un edificio che stiamo costruendo che è tutta un'odissea, però delle volte capita, dove la particolarità è che sarà il primo edificio multipiano con struttura predominantemente in legno, Trave Colonna d'Italia. Senti, anche allestimenti, hai citato i materiali. Io ho notato per esempio degli allestimenti ricchi come immagine, come scenografia, ma poveri di materiali. Materiali di riutilizzo, i tubi innocenti che sono ritornati, delle quinte di carta piuttosto che di altri materiali, delle striscioline di materiali super poveri che però sono molto scenografici. Chiaramente è un po' un'adesione ai tempi, nel senso il rispetto, il risparmio, l'attenzione rispetto ad anni fa, dove sappiamo per esempio l'allestimento è temporaneo, è efimero, quindi poi di solito non si riutilizza, si butta. Hai notato questa tendenza o no? Sì, ho notato questa tendenza. Io lo chiamo la generazione copia in cola, per dirti la verità, e risulta un po' buffo che tu mi fai questa domanda quando abbiamo dietro di noi una colonna multicentenaria di granito che è ancora bellissima e tiene tutto questo palazzo in piedi. Io non sono un grande fanatico di queste tendenze, io preferisco le cose che sono fatte per durare, che sono fatte con materiali il più possibile di qualità. Tu hai presentato qualcosa, hai lavorato in qualche progetto in questo salone o sei solo un osservatore? No, no, sono solo un osservatore. Sono stato invitato a diversi eventi e mi ha fatto piacere scoprire delle cose come, non faccio nomi, ma un fabbricante di luci che non conoscevo, che sono bellissime. Sai, io ho una certa età, girare tutta una settimana da stand a stand, dopo una settimana a Montreal di fare il speed dating, mi risulta difficile. A cosa stai lavorando a livello di architettura? Hai già parlato di questo edificio prevalentemente in legno. Stai facendo qualcosa che ti esalta particolarmente o che ti gena? Sì, no, assolutamente. Stiamo lavorando su un grande studentato alla Bovisa per il gruppo Heinz. Sono 750 posti letto, è un grosso progetto con un impatto urbano importante. Sono due edifici, uno che stiamo ristrutturando e un altro che è ex nuovo, che affiancano una nuova piazza che credo che uscirà molto bello e ci fa grande piacere partecipare in quello, ovviamente. Per chiudere queste brevi chiaccherate ti faccio spesso una domanda sulla musica. Al salone era presente, sai, ieri sera qui c'erano due violoncelliste che suonavano musica colta, classica e anche contemporanea e reinterpretata, però ovviamente con le sonorità del violoncello. Che momento hai per te musicalmente parlando? Questo è molto provocatorio. Io ho appena avuto una conversazione a Montreal che è diventata molto aggressiva, che si trattava proprio di questo soggetto, dove qualcuno mi diceva che in realtà Taylor Swift è l'equivalente dei Beatles. Ecco no! Ecco, per due... e l'unica differenza è una questione di età. Mi dispiace, ma anche se Taylor Swift ha tirato fuori ieri un album di 30 canzoni, per me non c'è assolutamente nessun paragone. Io ritorno al commento che siamo nella generazione copia in cola. Il sudore e il tempo applicato a qualsiasi atto creativo produce strati di percezione e di profondità diversi. Le cose che vengono fatte in gran fretta tipicamente rimangono molto superficiali e spariscono con il vento. Questa è la mia opinione da vecchio, mi dispiace, ma chi non è vecchio lo sarà forse. Senti, qui sopra c'è un nido di merlo. Questo posto per te è Blackbird o Mother Nature's Sun? Blackbird, Blackbird. Singing on a Dead of Night. Grazie. Grazie a te, Giorgio.